Il quorum al referendum sulle trivelle non è stato raggiunto. In Italia ha votato poco più del 31% degli elettori e quindi la consultazione non è valida. È inutile dunque la vittoria schiacciante del sì, pari all'85,84% dei cittadini che si sono recati alle urne. Nella provincia di Pesaro e Urubino hanno votato oltre 97.000 persone, a Fano il 34,42%, a Pesaro il 37,38% mentre a Urubino il 44,56%. Risultato più di 79.000 voti per il sì all'abrogazione di una parte della legge attuale sulle trivellazioni, oltre 16.000 per il no. Un commento sull'esito del referendum a seggi chiusi, arrivato dal premier Matteo Renzi, che per questa votazione ha deciso di assenersi, ricordando che 11.000 persone hanno rischiato di perdere il posto di lavoro. Risultati ottimi, ha scritto su Facebook, che i lavoratori hanno vinto, qualche consigliere regionale ha perso. Ecco le sue parole. Massimo rispetto per quelle donne e quegli uomini comunque abbiano votati, ma ci sono dei sconfitti, hanno dei nomi, dei cognomi. Sono quei pochi, pochissimi consiglieri regionali e qualche Presidente di Regione che ha voluto cavalcare a tutti i costi un referendum per esigenze personali, particolari, politiche. Un referendum che si poteva evitare, abbiamo cercato di evitare per risparmiare oltre 300 milioni di euro degli italiani, ma che è stato voluto tenacemente e pervicacemente, non per discutere di energia, ma per esigenze di conta interna da parte di qualcuno. Tra i consiglieri regionali che hanno proposto il referendum c'è Andrea Biancani che ha commentato l'esito del referendum e replicato al Presidente del Consiglio. I dati possono sembrare negativi perché in effetti il quorum non è stato raggiunto. Devo dire che comunque un 34% dei cittadini che hanno deciso di andare a votare mi sembra comunque un buon risultato. Anche alla luce del fatto che comunque il governo aveva in gran parte accettato quelle che erano le proposte delle regioni. Noi quindi siamo sereni, siamo tranquilli, non è mai stato almeno dal nostro punto di vista uno scontro politico, ma l'abbiamo vissuto come un'opportunità per i cittadini per confrontarci sui temi importanti come quelli dell'energia e della sostenibilità. Adesso speriamo che questo sia l'inizio di una nuova fase dove sia a livello regionale ma anche a livello governativo le politiche ambientali e dell'energia vengono messe al centro dell'attenzione come meritano. Con i risultati ottenuti domenica l'attività di estrazione di gas e petrolio entro le 12 miglia dalla costa potrà continuare fino all'esaurimento del giacimento per le concessioni già attive.